Lo spoiler. Allora, io ho sentito tante volte fare questa discussione sul fatto che cos'è lo spoiler, più che una cosa. Allora, lo spoiler sarebbe dire il rivelare, che so, il finale di un film, come va a finire la trama, altre cose del genere. Allora, mo ci sta spoiler e spoiler, no? Fai conto che io sia una persona su cui tu ti fidi, di cose, no? Tu che ne sa che io dirò sempre la verità? Cioè, che ne sa che lo spoiler che faccio non sarà una fregnaccia, proprio per fatto fare uno scherzo, eh? Bisogna sempre stare attenti. Faccio un esempio, no? Una volta vedi Lupin Terzo che doveva giocare a morra cinese contro Goemon Ishikawa. Allora, Lupin disse, butterò, non mi ricordo male, se butterò il sasso. Goemon, siccome lo conosceva Lupin, praticamente era lui o era Gigan, non mi ricordo bene, comunque Goemon si mise a dire, cioè, non era sicuro se lui l'avrebbe fatto o no, perché Lupin è uno che è imbrovino. Comunque, lui aveva detto, come spoiler, che avrebbe buttato il sasso. Allora lui ha pensato di buttare, che ne so, le forbici, perché ha detto, quello poi mi frega, no? Poi, alla fine, Lupin ha buttato davvero il sasso. E l'ha fregato. Perché quello il sasso distruggia le forbici, no? E allora Goemon pensava che lui avesse buttato qualche altra cosa, non il sasso. Comunque, ehm, è finito, cioè, l'ha fregato. Perché quello, ehm, è che Lupin è una cosa. Comunque volevo dire, non credere sempre agli spoiler che dicono in giro, perché, ma da sicuro che uno che, anche se non lo vuole fare con malignità cose, ma da sicuro che non ha capito niente del film, oppure di altre cose del genere, questo qui è il fatto dello spoiler. spero che ci stai saluto spero che ci stai saluto dann saluto buon anno